Anche oggi compiamo il nostro passo quaresimale e lo facciamo sempre alla luce del segno della croce, segno nel quale viene fatta memoria dei due misteri principali della nostra fede, l'unità e la trinità di Dio, l'incarnazione, la passione, la morte e la resurrezione di il nostro Signore Gesù Cristo, unico Salvatore dell'uomo. Un mistero nel quale ci viene rivelato ovviamente Dio come mistero unico, ma non di solitudine, di comunione, perché abbiamo visto tre sono le persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito, e diciamo i loro nomi proprio ogni volta che facciamo il segno della croce, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Questo è importante non solo per la nostra fede, ma anche nella ricaduta della nostra vita concreta. Perché? Perché noi siamo fatti ad immagine e somiglianza di questo Dio, di un Dio che è comunione. Il che vuol dire che non è sufficiente che noi abbiamo un'anima spirituale, una volontà, un'intelligenza. Per realizzare questa immagine dobbiamo rimanere in comunione gli uni con gli altri, ma non una comunione qualunque, la comunione che ci viene proposta e donata nel Signore Gesù, una comunione che si fa salvezza gli uni per gli altri, proprio perché accoglie il mistero della salvezza che Lui ha portato e vissuto e compiuto in mezzo a noi. Quella comunione per cui nel Vangelo Lui dice da questo vi riconosceranno da come vi averete gli uni gli altri. E ancora aggiunge qualunque cosa avete fatto ai miei fratelli più piccoli l'avete fatta a me. Ecco sia dunque questo il nostro passo quaresimale, sia il passo della nostra carità.